Salve a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela e ben ritornati sul mio canale e in questo nuovo video che riguarda un aggiornamento per quanto riguarda il palinsesto Rai di oggi 24 febbraio. Doc nelle tue mani non andrà in onda, cambio programmazione, la Rai lo ha cancellato, ma vediamo il perché e quando andrà nuovamente in onda. Giovedì quindi oggi 24 febbraio non andrà in onda la sesta puntata di Doc nelle tue mani 2 intitolata ragioni e conseguenze. Doc nelle tue mani non andrà in onda perché al suo posto sul Rai 1 andrà in onda il TG dedicato proprio alla guerra in Ucraina. La stessa cosa succederà sulla 7, andrà in onda la maratona mentana dedicata proprio a questo tragico conflitto. Ma in tanti ragazzi si stanno chiedendo quando ritornerà in onda Doc con la sesta puntata. Al momento non lo sappiamo e non è ufficiale, ma dovrebbe andare come regolamento giovedì 3 marzo. Quindi molto probabilmente andremo a vedere questa puntata giovedì 3 marzo. Volevo ricordarvi, ne approfitto, che se volete rivedere le puntate vecchie di Doc, sarà possibile farlo in streaming completamente gratuito su Rai Play. In attesa di aggiornamenti a riguardo, io vi invito come sempre, se vi va, a iscrivervi al mio canale, lasciatemi un like, attivate la campanellina per non perdervi questo ma nessun altro prossimo video. Ciao!